Anche Fano partecipa, la nostra città partecipa a Expo di Milano, che parla di alimentazione di cibo. Questa mostra parla appunto del cibo a Fano nel 1700. Il cibo attraverso i quadri del Magini, le nature morte del Magini, attraverso questa meravigliosa raccolta di 14 nature morte di Magini e di Ceccherini e attraverso un ricettario che abbiamo trovato da una famiglia fanese, un ricettario del canonico Loddi del 1700 che contiene circa 150 ricette. Ricette di una cucina non di una famiglia nobiliare, della borghesia. Ricette molto interessanti che fanno vedere appunto quali erano i cibi, quali erano le usanze di allora. Abbiamo voluto quindi trascrivere in questo ricettario e produrre anche un catalogo delle opere delle nature morte che rappresentano il cibo, quegli stessi cibi utilizzati nelle ricette. Tutto questo, dobbiamo dire, l'abbiamo fatto grazie all'aiuto, alla collaborazione e all'idea di Daniele Ghiotalevi. Ghiotalevi è già funzionario della sovrintendenza di Urbino, socio della Fondazione, membro della Commissione Cultura, ha voluto offrire insieme con noi la città questo evento. L'evento rimarrà aperto fino al 30 settembre, tutti i pomeriggi dalle 17.30 al 19.30. Invito i fanesi a venire a visitare qui nella sede della Fondazione, via Montevecchio 114. A tutti gli intervenuti doneremo questi due opuscoli, il ricettario del canonico Loddi in anastatica e questo libretto schede delle opere delle nature morte.